Gli alternatori delle vetture moderne hanno subito negli ultimi anni una grande evoluzione. Il funzionamento continuo dei vecchi alternatori è stato sostituito da una gestione elettronica e digitale della carica da parte di centraline dedicate. In questo modo l'alternatore contribuisce a ridurre l'emissione inquinante dell'auto, evitando così di sottrarre l'energia utile al motore. Ovviamente questa evoluzione tecnologica ha cambiato anche il metodo di diagnosi. I comuni banchi di controllo non sono più in grado di comandare gli alternatori di ultima generazione, rendendo di fatto impossibile una diagnosi corretta. Per questo motivo Magneti Marelli ha progettato Master Alt, uno strumento che è in grado di sostituirsi alla centralina che gestisce la carica, permettendo di verificare il corretto funzionamento dell'alternatore. Master Alt può essere utilizzato direttamente sulla vettura senza smontare l'alternatore. Una chiara banca dati permette di visualizzare il tipo di collegamento al generatore e i dettagli necessari alla prova. Attraverso i tasti appositi potremo simulare i comandi provenienti dalla gestione della vettura e controllare l'efficienza dell'impianto di ricarica. Master Alt è lo strumento ideale per il controllo e la diagnosi degli alternatori a gestione digitale in modo rapido e sicuro. La soluzione più efficiente nel mercato dell'autoriparazione. Master Alt. Alpha Master Alt. Master Alt. Master Alt. Master Alt. Grazie a tutti.